Abbiamo la disponibilità per metterci a disposizione la consegna dei vaccini, oltre a quelli di Moderna. Noi abbiamo la più grande flotta mobile aziendale del Paese, abbiamo una flotta aerea dedicata esclusivamente al cargo, abbiamo la più grande ed avanzata infrastruttura tecnologica di sistemi del Paese, quindi ci sono tutte le condizioni perché possiamo essere indicati come elemento di riferimento nella logistica della consegna dei vaccini. Abbiamo la capacità, l'organizzazione e la forza di fare la consegna dei vaccini punto a punto in tutto il territorio nazionale. Abbiamo contattato e scritto al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio per far sì che i nostri colleghi, ossia i portalettere e coloro i quali lavorano in uffici postali, vengono riconosciuti al pari delle persone che erogano un pubblico servizio. La vaccinazione dei nostri colleghi che sono in prima linea, in primis di quelli che sono in prima linea, è un atto penso dovuto da parte delle istituzioni.